Ritero! Ah, che carino! Che carino! Che è con la Maurizia Merluti? Eh, poi vedo la morte! Dopo il tempo giochiamo a Granny Difficoltà easy Allora, easy Mettiamo tutti e due Giochiamo Il volume, che ne so, l'abbasso, si l'abbasso Anche se non si sentiva la musica, l'abbasso Questa cosa la togli sì o no? Che fa schifo Allora Togli questa cosa nella Nintendo Giorno 1 Namu, namu, namu Basso un altro po' che passa meglio Più basso è, meglio è Anche se mi sembrirebbe l'audio Però, va bene lo stesso Vi dico la verità Non ho mai finito il gioco Granny Granny Conosco la mappa a memoria Ma non ho mai finito Granny Neanche quello 1 No, perché ci gioco poco, queste cose qua Non riesco a vincere Mi dovrei mettere tecnicamente qui Così le aspetto E me la campero Giustamente qua Anche su Granny si campero E togli ste canzoni Copyright Guardate Che cos'è il commissario Montalbano Una cosa del genere Vabbè mi faccio ammazzare Nonni Odio l'hug Vabbè perché mi dico l'hug C'è nessuno Non c'è nessuno Va bene C'è la nonnina carina Non è vero Fa cagare Però No, ho fatto cadere il rubo Mi nascondo nel bagnettino Anche sono nascosto Fuck Fuck Ma sono i Simpsons Che fanno i Simpsons Ma perché Ma perché ti guardi ci sono fatti male Ma che poi touch brutto Touch screen fatto male C'è nessuno? Io esco eh Non voglio vedere Quelli dell'era Gli alieni dell'era 51 Perché Ma sapete un'altra vita? Sì Allora Qua Ci clicchiamo Nino Ehi Nino Sì Però Non voglio sponsorizzare altri YouTube Qua Dovrei essere bello nascosto Qua ci vuole la Weapon Chi? Toglilo! Anche la nonna E' psicopatico Patrick Su Nintendo DS E' una giornata al lavoro E' alla fine del giorno Come prendo un'ultimo sorso di te Il raffiolo morbido Scivola nella piamponte A Sì Però la splug però quindi sono messo abbastanza bene sì però no no non ti devi nascondere dove voglio andare se furbo i creatori del gioco dove uno sistemare sta cosa allora la splunk è qui ma spero non posso vedere perché sono impegnato così non lavori un lavoro non la voglio senti pantaloni la splunk e te l'abbiamo messo allora ok ok sono sono bello nascosto a bella del zio non mi trova ho però togli sto video di cosa che neanche voglio pronunciare è qui lo sa dove sono sì però si rimane buggato lì e poi sto un po' in silenzio va bene io non sono andato nel piano di sopra e neanche nel pianoforte non ho visto cosa c'era infatti non c'è niente però so che nel piano di sopra c'è la nonna brutta è il miseria di aver fatto rumore un pezzo di lorenzi sta gay è la prima volta che li ammazzo mi ha scoperto con lorenzi sta gay no il mio lorenzi eh nonna però ho capito con che hai finanziato con l'osso di occhiali so troppo qui prendiamo la security key allora qui la intanto lo apro ah ma già aperto uh la botchi va bene so che la botchi è qua droppa sta cosa non mi serve io voglio scappare con la barca un king 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 potrebbe anche fregarmi il gioco quindi potrebbe nascondere le cose bene qua non c'è sta niente vediamo cosa ci sta qui ah però qui neanche posso andare forza dall'altro lato lì vedo qualcosa nella maniglia della porta questo video durerà mezz'ora non verrà nemmeno editato forse perché mi secca editare a pubblico e stop perché non ho preso il botchi sono stupido meglio quelli si saranno risvegliati come in dragon ball con le sette sfere anzi con le sette mazze dove la botchi non era qua no non era qua era vabbè qui non c'è sta niente e granny e il nonno dove quello non mi serve per ora non c'è va bene va bene va bene va bene mmm può essere utile ma prima devo ammazzare i nonnini eeeh toh i screen che te ti suonati i pokemon Chiudo il video, ciao, va, mi sedio, mi sedio, va, mi secco, poi continuerò off camera, va, mi secco, siamo a 9 minuti, va bene, no, forse editore il video solamente per arrivare a 10 minuti, quindi a scrincere, clincere, ciao a tutti, manco ho fatto l'intro, ma chi se ne frega Grazie a tutti